Parliamo della gara con il coach Luca Sacco, di Crema ovviamente, allora Luca, bisognava vincerla, l'avete vinta. Sì, mi sembra che le tue parole sono esattamente quello che doveva succedere. Non è stata secondo me... Primo tempo non abbiamo fatto male, primo tempo abbiamo giocato bene a pallacanestro, abbiamo fatto buone situazioni offensive, abbiamo fatto quello che volevamo, siamo stati molto attenti in difesa, infatti adesso vado a memoria, 28 punti li abbiamo fatto fare nel primo tempo, nel secondo tempo un po' di paura di vincere, anche se uno dice a più 15 come si fa ad avere paura di vincere, loro che hanno messo pressione, loro hanno giocato con ardor agonistico, noi guardavamo il tempo e diciamo dai finita, è finita, cioè in realtà non si voleva giocare, si voleva solo portare a casa due punti e questo è stato pericoloso da un certo punto di vista, però non l'abbiamo mai rischiato, sono contento di questo. Oggi questa vittoria conta soprattutto per ridare fiducia e morale a tutti, all'ambiente, perché purtroppo quando le cose non vanno bene, anche il bicchiere che invece di plastica lo voleva a fiori, anche quello dà fastidio. Sicuramente per quel che riguarda la partita di stasera, buone percentuali di realizzazione e anche buona la difesa, tanta grinta, ne avete messo probabilmente molto di più degli avversari e lì è stata la chiave della vittoria o dove secondo te? Sì, questo sì, ma i ragazzi sono stati fantastici, i ragazzi me l'avevano un po' promessa, infatti nello spogliatore mi hanno detto ci devi un panettone, perché la battuta era pertinente direi, no ma sono contento per l'ambiente, sono contento per l'ambiente veramente, questi due punti valgono doppio, valgono doppio. Adesso sono rientrati anche Daiala, Pellin, non si è allenato ma si è giocato, sei un po' più sereno? Guarda, secondo me adesso arriva il difficile, ti spiego, noi dobbiamo rifare tutto da capo, dobbiamo allenarci insieme, cosa che non l'abbiamo mai fatto in quattro mesi, dobbiamo buttare nelle rotazioni i ragazzi che prima giocavano 30-35, adesso dovranno giocare 20, coloro che non giocavano devono entrare in un complesso di gioco dove è la difficoltà e capire che bisogna fare qualcosa per il compagno e non per si stesso, quindi le vacanze per noi saranno fondamentali, perché dobbiamo giocare insieme, lavorare insieme.